Stai registrando? Stai registrando? C'è questa cavo di allergia che mi sta ammazzando Devi dirmi quando inizi a registrare Perché non ha senso che io vada avanti a parlare 2000 ore e poi è spento Aspetta, ho qualcosa nell'occhio Forse è un frustolo di polpa No, spegni Adesso faccio la vera assassina Ma devi dirmi quando registri Perché se no io parlo due ore e non è neanche acceso Sì, 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 dopo metto posto Dai, adesso finiamo il video così almeno lo posso pubblicare dopo Allora, questo è il video Dobbiamo farmi ridere, stronti Stringo, sono io Cosa vuol dire che ho i capelli da pazzo? Sì, fu il suo pazzo Ho visto, mi ho fatto la cesta mattina, non c'aveva male di metterli in piega Ecco, adesso vado avanti tutti a fare il video Sono proprio giù mezzo petto Ma quanta roba Eh, vabbè, è una macchina, oddio Dai Ma che è sta registrando? Ciao Ciao